Il racconto di Daliene nella Fossa di Leoni, che poi esce fuori senza alcun lesione, è l'immagine di ciascuno di noi che tante volte pensiamo che le prove, che le difficoltà, che le sofferenze possono travolgerci, ingoiarci, quando in realtà chi confida nel Signore può essere sempre forte e stabile e la fede nel Signore che ci dà la possibilità di non essere schiacciati dalla vita, di non essere annullati dagli eventi della nostra storia. E questo ci porta a vedere ancora una volta la novità che il Vangelo ci annuncia, nel momento in cui tutto sempre essere stravolto, sempre essere la fine della nostra vita, in quel momento verrà il figlio dell'uomo, in quel momento si manifesta il fine della nostra vita. Il Signore ci dona di comprendere che quanto siamo provati, quanto percepiamo la fine della nostra esistenza, in quel momento risplende il fine, la novità, il motivo per cui noi viviamo su questa terra. Buon amissio.